Quasi 250.000 euro di contravvenzioni, il 60% in più rispetto all'anno precedente. Il Comando di Polizia Locale Intercomunale di Pescate e Garlate, comandato in prima persona, caso unico, da un sindaco, quello di Pescate, Dante Recapitani, ha reso noto il bilancio di attività del 2017. Le multe elevate hanno avuto un'impennata, 245.000 euro rispetto ai 150.000 del 2016. Quasi tutte le sanzioni hanno riguardato violazioni al codice della strada. Solo 5.000 euro sul totale complessivo sono derivati da infrazioni al regolamento di Polizia Urbana. Nello specifico, a Pescate sono state elevate sanzioni per 141.000 euro, 859 verbali. A Garlate 104.000 euro, 694 verbali. Nel Comune guidato da Beppe Conti addirittura le contravvenzioni sono raddoppiate. Erano stati 315 verbali nel 2016 per un introito di 51.000 euro. Il superamento per la prima volta di quota 100.000 euro a Garlate, spiega il Comando di Polizia Locale Intercomunale, è il risultato dell'evidente aumento del controllo territoriale su precise indicazioni del sindaco Conti, recepite e poste in atto dal comandante Recapitani, con la predisposizione di posti di controllo continuativi sia sulla provinciale che nelle strade interne del paese, anche nelle ore serali. Le sanzioni combinate riguardano per lo più la mancata revisione degli autoveicoli e l'assenza di assicurazione, ma anche di vieti di sosta, utilizzo di cellulari alla guida e accessi non autorizzati. Il Comando si avvale di due agenti fissi, oltre a una decina di agenti a scavalco scelti sul territorio di Lecco e Monza direttamente da De Capitani. Su indicazione delle due amministrazioni comunali, buona parte di queste entrate sono state destinate a opere di miglioria stradale e a un sempre maggior controllo del territorio.